ciao ciao ragazze ciao a tutti oggi a grandissima richiesta video a smr in tantissime mi avete chiesto di provare a fare questo video e quindi buttiamoci proviamo a fare questo video allora devo uscire devo andare dalla brocchiera però prima di uscire mi voglio fare le unghie perché sono veramente una cosa indigna allora cosa userò l'acetone questo della nail polish remover leva smalto nutriente con glicerina e vitamina e della rim e london ecco qua uno smalto della rim e london salon pro numero 393 desideri eccolo qua e questo della ss the gel top coat che è vecchissimo e dischetti di cotone quindi uso un po di carta igienica per togliere lo smalto ok prendiamo non è neanche fortissimo togliere lo smalto vecchio che ormai è andato lo toglie abbastanza bene non sto facendo neanche particolarmente fatica solo che era meglio un dischetto di cotone però noi facciamo con quello che abbiamo giusto abbiamo tolto tutto lo smalto vecchio anzi no mi manca il pollice mi sono dimenticata ecco fatto adesso prendiamo il nostro smalto un po duro ecco qua è un colore un po invernale però è l'unico colore che ho qui da mia mamma perché non ho tutte le mie cose qua da mia madre e andiamo ad applicare il nostro smalto io adoro questi smalti della rim perché hanno un pennellino molto grosso e piatto e lo smalto si mette veramente molto bene un bellissimo è un bellissimo colore questo puoi un po' un po' invernale ma vabbè facciamo con quello che abbiamo basta proprio una sola passata vedete che bel colore lasciamo giù un po' di coaguli forse veramente vecchiottino facciamo un'altra mano un colore tipo vinaccia molto bello mi devo confessare una cosa a fare questi video l'obiettivo dei video ASMR è quello di far rilassare la gente ma anche chi li registra secondo me si si rilassa credo proprio di sì perché ti mette proprio calma pace smalto messo chiudiamo e lasciamo asciugare per un po' adesso prendiamo il nostro top coat apriamolo e andiamo a fare la nostra base è un po' vecchiottino infatti è diventato molto molto appiccicoso non so se riuscite a vedere cioè all'inizio appena comprato era molto più fluido adesso invece è proprio appiccicatico sembra quasi che abbia la consistenza del miele ecco qua vedete molto lucida veramente molto molto lucida ecco fatto vedete la differenza con o senza si vedrà meglio dopo una volta asciugato questa mano l'abbiamo finita facciamo l'altra soprattutto la French io vado pazza per la French quanto mi piace infatti per il matrimonio credo proprio mi farò una bella French ecco fatto chiudiamo unghie finite adesso aspettiamo che si asciughino allora ragazze il video ancora non è finito ho qui un foglio perché devo salutare alcune ragazze di voi siete in tantissime che mi chiedete di essere salutate quindi vi chiedo un minimo di pazienza e quando riesco vi saluto tutte quindi insomma io faccio del mio meglio ma sono veramente molto molto incasinata con questo matrimonio e quindi insomma se non vi saluto in un video se non vi saluto nell'altro video se non vi saluto nell'altro video ancora nel prossimo video vi saluterò insomma un attimo di pazienza in questo video saluto Serena Perola Gio Zosi Franchi Maria Mary Sol Roberta Di Felice Vita Sara Sigismondo Mari Girls Sara Lurachi Mei Mei e Anna Eboli un bacione ragazze mi sono sporcata il pollice devo andare a pulire un bacione ragazze e ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti